Un viaggio tra cimeli, ricordi, emozioni, maglie e biciclette, pezzi rari dalla collezione del Museo Madonna del Ghisallo di Magreglio e videoproiezioni. Al broletto di Como, in vista del Giro d'Italia, è stata inaugurata oggi la mostra Temporary Ghisallo Museum, organizzata da Fondazione Alessandro Volta, dal Museo del Ghisallo e dal Distretto Urbano del Commercio, con la collaborazione del Comune di Como. L'esposizione si basa su una selezione di oggetti del Museo del Ghisallo e in particolare ci sono degli oggetti molto importanti, cioè delle biciclette molto significative, fra cui ricordo la bicicletta di Gino Bartali, del tour utilizzata nel 1948, che ha una storia molto importante per quella che è stata anche la storia d'Italia, e la bicicletta con cui Fiorenzo Magni, il fondatore del Museo del Ciclismo della Madonna del Ghisallo, ha vinto il Giro del 1955. Una sezione speciale dedicata a Fausto Coppi. Quest'anno ricorrono i cento anni dalla nascita di Fausto Coppi, per cui abbiamo pensato di dedicare una piccola sezione proprio alle sue grandi imprese. Il Museo del Ghisallo rappresenta un'eccellenza, ha dichiarato l'assessore allo sport Marco Galli. In questa mostra c'è la storia di quella che è una super classica, la Festa delle Feste. Aperta fino al 27 maggio, l'esposizione si affiancherà a Due Ruote Rosa, mostra diffusa della collezione di fotografie di Fabrizio Delmati tra i negozi delle vie dello shopping in città. Anche via Milano torna protagonista, oltre alle vie Giulini, Borgovico, Vittorio Emanuele II, Porta, Natta e Garibaldi. Anche via Milano, il Brook Dritz, via Milano Bassa, dopo che non ha partecipato al bando multimisura di fine anno, è tornata a rapportarsi positivamente con l'amministrazione comunale ed è una delle sei vie protagoniste che hanno deciso di coinvolgere i commercianti le vetrine per esporre fotografie e cimieli relativi al Giro d'Italia.